Lo sport in collaborazione con Central Car, unica concessionaria Subaru per Alessandria e provincia. Nuovo showroom in via Marengo 151 ad Alessandria. Tutta la gamma Subaru in pronta consegna e assistenza tecnica qualificata. È di due vittorie, un pareggio e una sconfitta il bilancio delle formazioni della provincia di Alessandria impegnate nel sesto turno in serie D. Sono la società in procinto di passare di proprietà dall'attuale patron Renato Traverso ad una accordata di imprenditori presenti sulle tribune del Girardengo in occasione della vittoria dei Bianco Celesti per 2-1 contro Sestri Levante. Tutti i gol di giornata sono arrivati dal dischetto con tre rigori fischiati dal direttore di gara. Vantaggio dei pardoni di casa con Grabinski, pareggio ospite grazie a Scampini e penalti decisivo di Trimarco al novantesimo. Domenica da incorniciare per il Dertona che al Coppi travolge 3-0 il prosettimo grazie alla doppietta di Albeggiano e alla rete di Velardi, al termine di una prova decisamente convincente per gli uomini di Calabria, che salgono così a quota 8 in classifica al dodicesimo posto con un punto in più rispetto alla novese. Le ultime due posizioni in campionato sono occupate dalle altre alessandrine. Il Castellazzo rimane ancora all'appuntamento con la prima vittoria stagionale, pareggiando 0-0 in trasferta con il Ligorna, formazione genovese. Nel prossimo turno i biancoverdi cercheranno l'appuntamento con i tre punti nel derby contro la novese. Rimane fermo in fondo alla classifica l'Aqui, che rimedia la quinta sconfitta in sei giornate. A Lavagna i bianchi perdono nettamente per 3-0, aprendo la crisi in casa termale. Il Meteo, in collaborazione con... Punto Fuoco Tortona, piastrelle, parchè e arredo bagno, stufe, caldaie e caminetti pellet. Il servizio è il nostro miglior prodotto. Offerta prestagionale. Stufe a pellet, compra d'estate per restare al caldo d'inverno. Punto Fuoco di Tortona, metti a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circomballazione, angolo via Pernigotti. Il Museo Civico di Storia Naturale Doria e Associazione Didattica Museale di Genova presentano Skeleton Night, una notte da brivido, sabato 17 ottobre 2015. Attività per bambini dai 6 ai 12 anni, dalle 20 e 30 di sabato alle ore 9 e 30 di domenica con pernotamente in museo, cena esclusa, colazione inclusa. Per informazioni e prenotazioni 334 80 53 212.